Le arriveranno sicuramente tutti i nostri questa bellissima notizia visto che era qui con noi fino a ieri e adesso vorrei chiamare accanto a me il presidente di questa giuria, signori e signori, Oliver Stone. Insieme ad Oliver chiamerei Flaminia Chiechio per consegnare il premio. Grazie mille per essere con noi, Oliver, con il tuo grande lavoro, con tutto il giurio. Come è stato? Perché oggi ho visto a te durante la lancia, non è stato così male. I credo che abbiamo visto 18 filmi, credo. La maggior parte di questi, 10 di questi, abbiamo parlato molto di considerazione per tutte queste categorie. I think 8 of them were about young women, which is amazing. Telling you something is in the air. All these young women from different countries, and this includes Ecuador, New Zealand, Cambodia, Kyrgyzstan, Mexico, Sicily, Los Angeles. My God. Every country seemed to be there, except for France. And anyway, I was amazed at this. I always thought that every Italian I met was a good actor. But after I see these movies, I feel that there's a lot of natural actors out there. Because most of these movies had natural new covers. And I think there's some quality of everybody wants to be in the theater in its own way. Everybody wants to be on stage. And it's nice to see that in these countries. These people, these actors. And you will remember their faces. You, madam, stay with me. And so many great, great actors. I want to thank you for giving me this privilege and you want to call out the winner? No. Oh, okay. But by the way, don't, those of you who don't, are not being awarded tonight, please, please, we all get our hearts broken constantly in this business. Don't take it personally. This is not the end, this is the beginning. Please, most of you are very good. Allora, ovviamente il lavoro è stato incredibile, molto piacevole anche perché ci sono stati film che sono arrivati davvero da tutto il mondo, dove hanno visto una buona parte di film dove sono le donne protagoniste e questo gli ha fatto molto piacere vedere appunto che arrivino proprio da diverse parti del mondo. La cosa che ha sottolineato Oliver Stone è che ha conosciuto tanti volti che sono dei volti che hanno espresso la recitazione in maniera estremamente naturale e di questi volti lui si ricorderà, in particolare il suo, ho detto. Quindi davvero è stato un grande piacere poter vedere, perché dice qui in Italia tutti vogliono stare su un palco, però vederlo in maniera così, queste grandi prove, è stato molto bello. Prima di entrare quindi e di scoprire qual è il miglior film di questa 65esima edizione, Flaminia, chi è che è qui con noi per il Grand Prix Documentary Videobank della 65esima edizione del Taormina Film Fest? Il film a cui consegniamo questo premio, il film a cui consegniamo questo premio, the movie to give us an award, è Revealing Ukraine. So, we are giving this award to Revealing Ukraine, diretto da Igor Lopatonok che chiamerei qui sul palco per premio, per premiare questo Revealing Ukraine. Oh, Termina, thank you so much for letting us screen that movie to the world, because it's a matter of war and peace is very important, but first of all I want my cast and crew to join me, please, because without you Vera, my producer, come here, Victor, my speaker, beautiful Waxana, heart of Ukraine, please come on stage, join that minute, you deserve it. Il cast, Greville in Ukraine, qui sul palco. And I know, I know it's a very, very nervous time for me, the second time in Termina, I know Oaxana can say better than me, because women do it better. My words on the screen, and her words in the heart, please. Buonasera, signori e signore. Dalla nostra famiglia vorrei esprimere con tutto il mio cuore, la mia più immensa gratitudine verso questo paese. Grazie per il benvenuto caloroso. Felicitiamo Oliver Stone e tutto lo staff che ha collaborato alla realizzazione di questo film. L'importante è che in Ucraina e ovunque nel mondo ci sia, la pace è che guerreresti solo nel film. Grazie mille e tutti voi. Ci rogiamo. Grazie. Grazie. Il premio a Reveal in Ukraine lo consegniamo. Grazie mille. Sì, facciamo una foto tutti insieme per il cast di Reveal in Ukraine che riceve il Grand Prix Documentary Video Bank 65esima edizione del Tower Mina Film Fest. Thank you so much. Grazie. We'll be back. We'll be back next edition. Torneranno alla prossima edizione. Mr. Stone, stay with me, please. Adesso chiamiamo Oh, sono andate? No, allora raggiungetele dove sono. Raggiungetele, raggiungetele. Tanto le potete individuare. Questo lo posso tenere io, lo consegniamo a lei. Thank you for...